Rimetto immediatamente nelle mani del presidente Berlusconi l'incarico di coordinatore regionale del partito. Non voglio in alcun modo che la mia vicenda possa essere oggetto di strumentalizzazione politica e danneggiare Forza Italia. Rinuncio anche a qualsiasi prerogativa parlamentare per poter essere giudicato, spero nei tempi più rapidi possibili, da cittadino comune. Lo afferma il senatore Domenico Desiano, coordinatore regionale campano di Forza Italia, coinvolto nell'inchiesta di Napoli sui rifiuti. Nell'inchiesta viene ipotizzato uno scenario inquietante, tessere di Forza Italia acquistate al prezzo di 10 euro ciascuna in occasione del congresso provinciale di Napoli nel 2012 per acquisire peso politico del partito e indicare i nomi dei candidati da inserire nel listino per le elezioni politiche dell'anno successivo. Questo emerge dall'inchiesta della procura di Napoli ad avvantaggiarsi di tale sistema di raccolta delle tessere. Sarebbe stata la componente del partito che faceva riferimento al senatore Desiano, destinatario di un'ordinanza di richiesta di arresti domiciliari trasmessa al Parlamento. Nell'ambito dell'inchiesta è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Napoli all'Acquameno Oscar Rumolo, collaboratore dello stesso Desiano. Rumolo, finito a domiciliare, è stato assunto al comune di L'Acquameno come responsabile del servizio finanziario dei tributi dal novembre scorso, distaccato presso la Commissione Consigliare Regionale della Terra dei Fuochi.